L'agricoltura, a differenza degli altri comparti economici, anche nell'anno Covid, ha limitato i danni. E' quanto emerge dal report della Camera di Commercio di Firenze sull'anno 2020. Mi ritrovo parecchio nella definizione luce e ombre, nel senso che se penso alle ombre, rifacciamoci da quello che è più semplice, gli agriturismi, chiaramente, che in molte aziende nostre, che sono dette nella multifunzionalità, si sono specializzate in quel settore e hanno cercato anche appunto di intercettare il turismo. Lì, chiaramente, c'è stato un vero e proprio crollo. Secondo l'indagine della Camera di Commercio, il valore della produzione agricola nel 2020 nell'area fiorentina è calato del 9,1%. Il numero di imprese è rimasto pressoché invariato, meno 0,8%. Molto più deciso, il calo di occupati, meno 22,5%. Risale la domanda di lavoro, più 3,1%. E fa ben sperare soprattutto il più 13% delle esportazioni. Dato in netta controtendenza rispetto agli altri comparti economici, dove sono state proprio le aziende votate all'export quelle più in difficoltà. Devo dire che nonostante queste prime piccole difficoltà, siamo riusciti a mantenere, lavorando sempre, assolutamente. Non mancano in ogni caso i motivi di preoccupazione, per questo dalle associazioni di categoria arriva un appello alle istituzioni. Necessita un intervento importantissimo di dilazione nel tempo delle rate dei mutui e dei prestiti scaduti o in scadenza, che non abbiamo pagato grazie alle moratorie che ci sono state e che sono in vigore fino al 30 giugno di quest'anno.